Sono qua appunto per fare un allarme generale, una convocazione di tutti i donatori o non donatori che facciano questa azione di solidarietà. C'è bisogno, questa donna ha bisogno di globuli bianchi e per poter fare questo ci vogliono molti donatori, perché non è una donazione normale come le altre, ma viene fatto uno screening per poi dopo vedere se è compatibile o no e c'è la possibilità, se ci sta una forte massa di donatori o persone che vogliono donare, proprio in riferimento a questa persona, che possa guarire, perché c'è la possibilità di fare il trapianto, però deve superare questa crisi. Perché chiaramente questi donatori si devono recare presso l'ospedale a Roma. Sì, si devono recare a Roma, non può. Però vi sopporterete questo trasporto, questo viaggio? Noi sopporteremo tutte le spese di viaggio, di alloggio, di vitto, perché ci sia questa volontarietà unanima di tutto il Golfo di Policastro e anche all'esterno di chi chiunque ci sia, ci sta la possibilità di dare questa solidarietà e di fare del bene a una persona che ha bisogno veramente.